Ora più che mai il PD Lucano deve rimanere coeso, risponde così il segretario lucano dei democratici Antonio Luongo all'ultimatum lanciato ai suoi dal governatore Pittella tempo fa, 20 giorni per adeguarsi alla linea della giunta. Queste le condizioni dettate da Pittella a quel PD che sente sempre più distante eppure, arriva dito Luongo nel corso di una conferenza stampa, nessuno avrebbe mai fatto mancare il suo sostegno al governatore che, spiega il segretario, pur svolgendo un lavoro oneroso deve comprendere che la stessa Basilicata non è mai stata governata da un uomo solo al comando e men che meno può esserlo in questo momento in cui forti sono le correnti antiregionalistiche. Benvengano quindi a parere di Luongo discussioni e tentativi di sintesi politiche, purché si scongiurino divisioni all'interno del partito ed eventuali commissariamenti dall'alto. Quanto alla composizione della giunta regionale Luongo è stato altrettanto chiaro, possono essere interni, ovvero i consiglieri eletti nell'assemblea o esterni, indicati come i primi non eletti i quali hanno contribuito alla vittoria del centro-sinistra. Ma se c'è un accordo politico oggi, la giunta si fa oggi. Se la giunta si cambia a gennaio, l'accordo si fa a gennaio, altrimenti si indebolisce soltanto la forza stessa del governo regionale.